Sono finiti in manette dopo una complessa indagine della squadra mobile della Questura con i commissariati di Viareggio e di Forte dei Marmi. L'operazione si è conclusa questa mattina con l'arresto di due uomini di 44 e 34 anni di origine albanese nell'ambito dell'operazione Nottefonda, che ha individuato i presunti responsabili di una serie di furti commessi in abitazioni di lusso, soprattutto a Camaiore e Pietrasanta, ma in generale in provincia di Lucca, principalmente ai danni di turisti stranieri in vacanza. Le indagini hanno avuto una svolta dopo il furto di un Audi Q3 Sportback con i vetri oscurati, che i malviventi hanno continuato a utilizzare per i loro colpi e l'attività. Dagli spostamenti della vettura si è riusciti a identificare le altre auto utilizzate per i ride. I due uomini sono accusati di 15 colpi, non solo in Versilia ma anche a Lucca, in particolare del blitz in tre case di Pieve Santo Stefano nella notte del 15 luglio. In gente, il valore dei beni asportati, quasi 300.000 euro di refurtiva, più una Porsche 911 ritrovata in un parcheggio restituita ai proprietari. Decisivo, per chiudere le indagini, il controllo alla frontiera con la Slovenia dello scorso 18 luglio. I due sono stati trovati con nell'auto la merce rubata e denunciati inizialmente solo per ricettazione. Il prosieguo delle indagini ha arricchito il fascicolo per le cui accuse dovranno rispondere in tribunale.